Sarà un'estate da vivere tutta a teatro, quella dei napoletani e dei turisti che sceglieranno la nostra città per trascorrere le vacanze. L'assessore alla cultura del comune di Napoli, Nino Daniele, ha presentato a Palazzo San Giacomo Stati di Grazia e di Emergenza, prima edizione del Festival delle Periferie, Teatri, Comunità, Territori, promosso e sostenuto nell'ambito dell'estate a Napoli del 2018. Tanti spettacoli per tutti i gusti e un occhio di riguardo anche per i bambini, così l'assessore Daniele. Credo che l'estate a Napoli ha quest'anno tantissimo teatro, ma soprattutto ha bellissimo teatro e quindi volevo anche con questa conferenza stampa sottolineare appunto che a Napoli il teatro non si ferma mai, perché è un aspetto saliente della vitalità culturale di Napoli e direi che il grande teatro, quello innovativo, che sperimenta nuovi linguaggi, che si confronta con il mondo da un punto di vista che solo da Napoli si può dare, produce non solo teatro civile, teatro pedagogico, produce in una sola parola teatro e grande teatro. Grazie. 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 Grazie.